Vincere per rilanciarsi, per tirarsi su e riprendere quella maccia di diverse settimane fa la Roma Visnova nella terza giornata del girono di ritorno della serie a due maschile affronterà appunto questo pomeriggio tra le muramiche di Monte Rotondo in Latina. Giochigratta, palla dentro, palla dentro, il tiro di Marco Panissi! Che grande azione della Roma Visnova, finalizzata ottimamente! Capitale a Vitola che avanza, Francesco, Vitola, Francesco, Vitola! Il pareggio di Roma, due a due! Coppi, Vitola, il tiro del capitano, Francesco, Vitola! Incrocia e prende in controtempo Campuccio, accoscia le distanze, la Roma Visnova! Poi Marco Maras, Maras è intenzionato, poi capitano, Maras che è libero, Marco! Maras! Ed è parità! C'è fallo! Su! E il tiro del Antonio Spinelli! Su! E poi il tapino è Marco! Parisi! Mano calda oggi! E lì però Maras riceve Marco! Maras! Lì dove Campuccio non arriva, sopra la sua testa! Rientra ancora la superiorità! E poi Matteo! Matteo! Gli occhi gratta! Donna più due, la squadra della capitale! Ferraro contro Capuccio! Emanuele, vai Emanuele, tutta calma! Emanuele, 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 Emanuele! Emanuele, 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 Emanuele la chiude qui! Emanuele, 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 Ferraro, la chiude qui! Finisce qui con la palla in mano la squadra dei leoni, gli applausi di un pubblico che torna ad applaudire i leoni che vincono Grazie a tutti.